E bentornati con questo walkthrough su PlayStation 4, finalmente possiamo mostrarvi la console nei minimi dettagli in termini di funzionalità, quindi adesso noi insieme ad Antonio cominceremo a fare una sorta di analisi di tutto quello che offre la console al day one, uscirà il 29, noi abbiamo già la fortuna di averla in questo momento, di conseguenza alla fine di questo walkthrough che durerà circa 20 minuti, dove cercheremo di farvi vedere le cose più interessanti, le cose più importanti, passeremo al classico domande e risposte, quindi mandate le vostre domande a Twitter, nostro account at MultiplayerHit, hashtag SuperDietta, quindi partiamo subito, io qui sono pronto, dotato del DualShock 4 e questa è la dashboard di PlayStation 4, rispetto a quella di PlayStation 3, diciamo che concettualmente rispetto alla cross media bar è opposta, inverso, ovvero che le opzioni si diramano in orizzontale, le sezioni si diramano in verticale, adesso abbiamo per adesso a lancio, avremo queste due righe di funzionalità, quelle principali legate ai giochi, alle applicazioni e ai servizi e quelle legate invece al profilo, al profilo quindi alle impostazioni, i trofei, i messaggi e il PlayStation Store. La prima cosa che salta all'occhio è questa prima opzione, novità, novità è praticamente il feed di tutte le attività proprie e degli amici, io ovviamente adesso non ho ancora amici che hanno PlayStation 4, di conseguenza il feed è popolato soltanto da roba che ho creato io, ho fatto un live streaming con Resogan, ho sbloccato 4 obiettivi, ho scaricato Playroom e l'ho provato, ho fatto uno screenshot di Killzone e ho sbloccato altri obiettivi, quindi tutto quello che ho fatto io ovviamente a regime quando tutti i miei amici, una parte dei miei amici avrà PlayStation 4, vedrò cosa hanno fatto in ordine assolutamente temporale. Ad esempio se vado qui dove ho sbloccato degli obiettivi, per Resogan, ci clicco sopra e mi apre delle informazioni, quindi chi l'ha sbloccati, quando l'ha sbloccati, cosa ha fatto e poi posso avviare il gioco se è in mio possesso oppure vedere le informazioni per acquistarlo, posso fare like e vedere ovviamente tutti e quattro gli obiettivi che ho sbloccato cosa mi portano. Tornando indietro ovviamente posso andare nel dettaglio della diretta, nel dettaglio di Call of Duty Ghosts e compagnia, quindi questo una volta che lanciate la console a tutto quello che succede. Di seguito invece tutte queste impostazioni, questi giochi sono in ordine temporale, ovvero rispetto a quello che avete utilizzato come ultima cosa, io ho utilizzato Resogan, quindi nel dettaglio abbiamo la possibilità di avviarlo, in questo caso sono già pronto perché ce l'avevo in background, ripremo il tasto PlayStation e ritorno nella dashboard, posso avere una panoramica del gioco che è un po' editoriale, un po' meno, con la musica del gioco, un po' il dettaglio che c'era su PlayStation 3 quando c'era l'inconcina, adesso è molto più ricco di informazioni, abbiamo la pagina Facebook ufficiale, possiamo vedere dei concept art, i nostri trofei sbloccati e anche qui il feed di tutto quello che si è fatto col gioco. Ovviamente anche in questo caso, una volta che avrò dei amici che avranno giocato Resogan, vedrò altre informazioni oltre alle mie. Abbiamo poi elementi correlati che probabilmente sono giochi simili o quant'altro e il like classico, premo avvia e mi ritorno ovviamente in quello che ho fatto prima. Poi ho utilizzato ad esempio Live da PlayStation, Live da PlayStation è l'applicazione ufficiale che permette di vedere i live streaming, come ben sapete è possibile fare stream della console sia su Twitch sia su Ustream, arrivano anche le notifiche a sinistro o a destra. Clicco su Live da PlayStation e nel frattempo la console carica tutti i live di giochi PlayStation, ovvero di gente che sta facendo streaming direttamente alla PlayStation 4. Come ben sapete la console è uscita negli Stati Uniti il 15 novembre, di conseguenza già c'è un po' di gente, vedete, c'è chi gioca a Call of Duty, chi fa Lego Marvel e compagnia. Quindi ci si clicca sopra, proviamo un attimino, sperando che funzioni tutto, ovviamente siamo connessi a Internet, la banda ce n'è. Questo ragazzo sta giocando a FIFA Ultimate Team all'interno di FIFA 14, vedete, potete avviare questo gioco se ne avete a disposizione, ci sono i commenti laterali e poi col tasto Option magari c'è una sorta di sovraimpressione che vi dice cosa potete fare, in questo caso soltanto informazioni. Potete fare schermo intero col quadrato e poi, quindi ti sta tenendo questo tristone che parla in inglese, ecco, questa immagine statica. Mi fa ridere che hai preso il commento dell'unico arabo. Esatto, esatto, gli arabi. E quindi potete andare a vedere un po' i live streaming delle persone e se vi va potete ovviamente trasmettere il proprio gioco e ci torniamo dopo, oppure filtrare tra Twitch e Ustream o fare anche una ricerca. Di conseguenza ovviamente non possiamo cercare questa super diretta perché non è un gioco streammato, come si può dire, trasmesso da PlayStation 4, però questa è l'interfaccia live. E vedete, adesso siccome ho utilizzato live, si trova in prima posizione, quindi queste icone vengono automaticamente ordinate in base al proprio utilizzo. C'è quello di Duty Ghost che ovviamente lanciandolo farà chiudere Rezoquan per partire in questo altro gioco e concettualmente sono le stesse identiche cose che abbiamo fatto prima. I like, i trofei sbloccati, le attività collaterale e quant'altro. Abbiamo Killzone Shadow Fall, il servizio Video Unlimited che permette di acquistare video, visionarli oppure affittarli per un certo periodo di tempo. Il Playroom che magari ci torniamo dopo se abbiamo tempo per giocare un po' con la PlayStation Camera ma anche con la PlayStation App. Un altro gioco che ho scaricato, Contrast, che è disponibile anche per PlayStation Plus. E ad esempio il browser, il browser classico in HTML5 che abbiamo delle informazioni, è possibile ovviamente andare a portarlo a schermo intero, possiamo inserire un URL o fare una ricerca, ad esempio cancelliamo questo e ne scriviamo altra roba, va bene, ci interessa relativamente, giusto per far vedere come funziona. Il rendering è abbastanza buono, nel senso che abbiamo a che fare con HTML5, quindi il flash non è supportato ma per il resto funziona perfettamente, vedete si trova in prima posizione adesso. Abbiamo ancora, TV e video che saranno le applicazioni che verranno installate, adesso ovviamente non abbiamo ancora nulla al suo interno ma possiamo installare dallo store le applicazioni che lo supporteranno, buone nuove in tal senso nelle prossime settimane e Music Al Limit è della versione dedicata alla musica della parte video, anche in questo caso è possibile sottoscrivere un addonamento da 9,99€ o 4,99€ al mese per accedere a tutti gli album musicali e quant'altro per gli artisti. Ovviamente come ben sapete ad oggi PlayStation 4 non legge i CD audio né gli MP3, di conseguenza l'unico servizio musicale è questo ed è possibile metterlo anche in sottofondo mentre si gioca. Sony ha affermato che arriverà una patch successiva che abiliterà di nuovo queste funzionalità che stranamente non sono disponibili. Raccolta infine vi mostro il contenuto scaricabile in termini di giochi e anche di applicazioni che avete installato sulla console, quindi noi abbiamo Resogran e Contrast, possiamo lanciarli, controllarli e gestirli. Questa è la parte quindi che si verrà sempre più arricchita nel corso del tempo in base a quello che installate, a cosa giocate e il resto e poi come vi dicevo quindi viene riorganizzata a livello cronologico in base a quello che utilizzate. L'ultimo è stato il browser, poi ho utilizzato il live e così via. Nella parte superiore ci sono informazioni legate più alla persona, più a quello che fate voi. Innanzitutto il PlayStation Store, quindi il PlayStation Store che è molto simile a livello estetico all'ultimissima versione per PlayStation 3. Abbiamo la pagina di benvenuto, ovviamente vi dice collegatevi il 29 novembre quando ci sarà la console in Italia, ma in realtà abbiamo già la parte dedicata al PlayStation Plus che invece di abbonarvi, oppure quello che potete avere nella Instant Game Collection, tutte le varie informazioni, l'abbonamento e così via. Torniamo indietro e abbiamo invece la Instant Game Collection legata al PlayStation Plus. Io ovviamente sono PlayStation Plus e quindi dovrei avere accesso a un po' di cosi. I due giochi gratuiti al lancio saranno Resurgan e Contrast e quindi sono questi disponibili. Abbiamo gli sconti, abbiamo la possibilità di convertire i giochi da PS3 a PS4, supponga che adesso non ci sia nulla perché ancora deve essere abilitata questa parte dello store per il lancio. Poi abbiamo i giochi, abbiamo ovviamente quelli che sono disponibili come FIFA, Assassin's Creed, Lead for Speed Rivals, Battlefield, NAC e compagnia cantante War Thunder e ovviamente c'è la possibilità di vederli anche sotto forma di lista in tutte le varie visualizzazioni che sono molto simili a quelle che c'erano su PlayStation 3. Questo l'abbiamo già visto, abbiamo poi i film, programmi TV, la musica e le app, i miei video e la possibilità di riscattare il codice come accade in passato. Quindi ovviamente PlayStation Store che verrà arricchito, suppongo, a partire dal 29 novembre. In seguito abbiamo le notifiche, le notifiche ti dicono immediatamente le ultime cose ricevute, quindi un messaggio, una richiesta amico. Andando a cliccare abbiamo tutta una serie di notifiche che sono arrivate dall'ultima consultazione, dall'ultimo riavvio, quindi ho sbloccato un trofeo e queste due notifiche. Gli inviti, non sappiamo per cosa, forse per giocare online, per altre roba simile. Avvisi di gioco, hai ricevuto un avviso per il gioco, questo qui e quest'altro, quindi sono molto generici. E poi i download e gli upload. I download vi dice tutto quello che avete fatto, che avete scaricato anche quando la PlayStation 4 è stand-by, perché la PlayStation 4 ovviamente in stand-by può scaricare gli aggiornamenti, sincronizzare i trofei, i salvataggi online. La cosa interessante è che il download può essere anche contemporaneo, quindi non c'è più quella cosa che i download vengono messi in fila uno dietro l'altro, potete scaricare anche quattro file in contemporanea e ovviamente in base alla vostra velocità sarete più o meno rapidi nell'accedervi. Ad esempio prima avevo scaricato la patch che abilita il 1080p per Call of Duty Ghost, o viene installata in automatico quando lanciate il gioco, oppure cliccate qui con la X e vi installa la patch direttamente. E poi caricamenti invece, perché quando andate a condividere uno screenshot su Twitter o Facebook, un filmato su Twitter o Facebook, potete farlo in background, non c'è bisogno di stare lì e aspettare che finisca l'upload, ve lo mette in coda sotto caricamenti e quindi voi continuate a fare quello che state facendo, giocare o navigare nella dashboard e nel frattempo lui vi butta la roba online, proprio con un termine tecnico, buttare la roba online. Abbiamo gli amici, anche in questo caso vi dice, vi dà un sottoinsieme degli amici che sono connessi online, andate a cliccare e vi dà la lista di quelli connessi. Purtroppo questi cari miei amici sono tutti su PlayStation 3, quindi no su PlayStation Vita, quindi purtroppo per loro non possono beneficiarne. Tutti i miei amici che sono 486, perché come ben sapete Sony ha portato la lista amici a 2000 come tetto massimo, giocatori incontrati online non ho fatto ancora nulla. Richieste di amicizia, quindi ne scegliete qualcuno, avete la gestione dei trofei e vedete tutte queste tre cose sono in grigia progetto perché sono proprie di PlayStation 4, poi potete fare la chat vocale, in messaggistica o potete pure eliminare e bloccarlo di grande cattiveria. Visualizzate la lista amico, talvolta hanno dei messaggi, le accettate e un'altra novità è quella di richiedere l'invia richiesta nome, perché come ben sapete PlayStation 4 è integrata con Facebook, è possibile abilitare direttamente il proprio nome e cognome reale con la foto di Facebook, quindi o rimane classico nickname con tanto di avatar personalizzato ma da una rosa scelta da Sony, oppure potete mettere la vostra immagine. Cliccate ad esempio sui trofei, qua ci saranno informazioni molte di più quando Cino 9.3 sarà su PlayStation 4, cliccate sui trofei e c'è un confronto dei due trofei, adesso si sta sincronizzando dall'ultima volta che io ho sbloccato qualcosina, vendita, vedete in alto a destra appena gliela fa, nel frattempo che sta scaricando, torniamo, ci andiamo dopo, allora vediamo direttamente la mia, richiesta di nome, qui è tutte le persone che hanno richiesto a me Antonio Fucito di dare il nome reale, quindi non Tanzer ma Antonio Fucito con la foto di Facebook e giocatori bloccati. messaggistica, in questo caso la creazione classica del messaggio, tutti i messaggi ricevuti, ad esempio, ok vedete qui una cosa interessante che c'è a differenza di PlayStation 3 una sorta di conversazione un po' come se fosse un SMS, quindi voi potete tenere traccia di tutta la conversazione se riesco a trovare qualcuno con cui ho scambiato più di un messaggio, ecco qua, in questo caso c'è quindi una conversazione che è continuo, potete consultare i precedenti messaggi, aggiungere un giocatore per una chat multipla e poi andare a consultare direttamente le statistiche, questo sono io Antonio Fucito, vedete in questo caso rispetto al classico nickname c'è la foto che io ho su Facebook, il nome reale, il cognome, le attività recenti che sono abilitate perché ho PS4, la presentazione e gli amici, vediamo se qui funzionano i trofei, vediamo un attimino, ecco perché stavo ancora sincronizzando, questi sono i trofei che ho sbloccato, ad esempio un Resogan, tenete conto che ho giocato sulla debug quindi i miei obiettivi della recensione non ci sono stati, c'è una caratteristica in più rispetto a PS3 ovvero la percentuale di rarità, lui vi dice quanto quell'obiettivo è stato sbloccato da tutti gli utenti che hanno giocato Resogan e lo divide in 4 fattori tra super raro, tra molto raro, anzi estremamente raro fino a comune, quindi comunque c'è una percentuale di gente che l'ha sbloccato e nel frattempo mi arrivano messaggi, ovviamente ci mancherebbe che non mi arrivano messaggi online e la percentuale di rarità, vi chiedo ovviamente di evitare di mandarmi troppi messaggi, altrimenti disattivo le notifiche, faremo vedere anche come funziona, tornando indietro quindi queste sono le caratteristiche mie, abbiamo anche le catture, le catture è una traduzione italiana di screenshot e quindi tutte le catture che ho fatto, in questo caso ho fatto catture di Call of Duty Ghosts, Killzone, Shadow Fall, Resogan e compagnia, ma ci torno dopo per sicurezza, per farvelo vedere con una roba più fluida, abbiamo il party per fare le chat multiple, abbiamo il mio profilo che vi ho fatto vedere prima, i trofei che vi ho fatto vedere ulteriormente e poi ovviamente le impostazioni, andando dall'altro c'è la guida per gli utenti se avete qualche problematica, la raccolta sulla salute, dati di salute e sicurezza, il PSN vi porta alla gestione dell'account e poi le notifiche, vedete le notifiche, vado subito a disabilitare quelle dei messaggi perché altrimenti non la finiamo più, penso che debba salvare, e sono molto più complesse rispetto al passato, richieste amico, richieste di a nome, inviti, avvisi per i giochi, download, caricamenti e compagnia, quindi adesso io ho disabilitato quasi tutto se non mi disturbate più, impostazioni login, automatico, riconoscimento dei visi se avete PlayStation Camera, i codici di accesso se volete mettere un ulteriore controllo, perché se mettete in automatico magari per fare alcuni acquisti mettete un codice di controllo, il filtro, la gestione dei dati d'applicazione, devo chiudere Resogan, va bene, non lo facciamo, questo vi permette di fare i salvataggi online, offline, nel cloud o non nel cloud, un po' come accadeva prima, per fortuna adesso con PlayStation 4 non bisogna essere abbonati a PlayStation Plus per i salvataggi, online, aggiornamento software di sistema, la rete, la gestione e connessione a internet, l'impostazione, la verifica, questo è molto molto simile a PlayStation 3, non c'è niente di nuovo, audio e schermo, impostazioni uscita video, adesso noi siamo in 720p per questioni di diretta, può essere automatico 1080p, 1080i, l'intervallo RGB e l'intervallo Y, così quella delle varie scale di colori, che possono essere completa, limitata oppure automatico, quindi gestisce lui in base alla fonte video che viene attaccata, tenete conto che noi siamo attaccati a vari aggeggi per mostrarvi la diretta, di conseguenza alcune situazioni sono limitate, area di visualizzazione è chiaro, un po' stazione uscita audio, cioè quella digitale HDMI, ovviamente anche in questo caso abbiamo quella ottica e poi cosa succede? se io adesso al pad, facciamo vedere, attacco le cuffiette, non si sente più nulla perché ho attaccato le cuffiette al pad, torniamo in dashboard, vi faccio vedere adesso che posso rediriggere tutto l'audio direttamente sul pad e confermo che l'audio è stereo oppure soltanto l'audio della chat, se faccio audio della chat si risente anche l'audio della console, stacco le cuffiette, questa caratteristica non è più disponibile e poi il formato audio si può scegliere la priorità del formato PCM lineare per gli impianti anche 7.1 e la massima qualità, il Dolby o il DTS, abbiamo la musica, la musica di sistema che può essere disabilitata e il tono dei tasti, andando ancora avanti, impostazioni della costruzione PlayStation App, io ho collegato un iPad e fra poco ci arriviamo, impostazioni della connessione PlayStation Vita e ne ho già attaccata una, impostazioni di riproduzione video, dispositivi connessi, abbiamo ad esempio i controller, la tastiera esterna, PlayStation Camera, possiamo spegnere i dispositivi, abbiamo il volume, le cuffie con microfono e quanto altro, la data e ora, la lingua, risparmio energetico, questo è interessante, puoi impostare quando spegnere la console, quando spegne il DualShock e cosa fare quando la console è in stand-by, si può alimentare tramite la porta USB una chiavetta o un pad, se si connette a internet e se si può accendere in remoto la console per il remote play. Informazioni di sistema, download e caricamenti automatici, che sono legati, vedete qualcosa al plus, qualcosa non è legato al plus, vedete gli aggiornamenti di sistema e di applicazioni sono stati portati fuori rispetto al plus, rispetto anche a PlayStation 3, altre cose invece sono collegate al PlayStation Plus, usa la PlayStation 4 con i comandi vocali, abilita collegamento a dispositivi HDMI, quindi se collegate la console allo stereo e la TV che supportano l'accensione e lo spegnimento via HDMI è possibile assolutamente abilitarle tramite queste, cronologie errori che fa tanto geek, non so chi possa servire oltre a quelle un po' più avvezzi alla tecnologia e l'avviso di proprietà intellettuali che non ci può fregar di meno. Possiamo anche ripristinare la console. Abbiamo ancora un'altra opzione da farvi vedere, lo share, allora io cosa faccio? Con la doppia pressione del tasto PlayStation posso andare velocemente tra il gioco e l'ultima applicazione inutilizzata. Quindi ritorno a giocare a Resogun, abbiamo anche lo speaker che ripete le stesse cose, vedete? E poi premo il tasto PlayStation e ritorno qui, ritorno dentro al gioco, quello che voglio farvi vedere che sto così, premo il tasto share e vi scatta l'istantanea, vi esce l'inconcina in alto a destra, oppure lo premo subito senza lasciarlo premuto e mi va su condividi. Cosa posso fare in condividi? Caricare il clip video e quindi questi sono tutti i clip video che ho creato di Resogun perché come funziona? Lui si registra gli ultimi 15 minuti ma se voi premete il tasto share e arrivate qui e poi lo ritogliete, quindi semplicemente se entrate in questa schermata e la ritogliete, la registrazione riparte da capo, nel senso che stoppa il clip precedente e riparte da capo, quindi voi in realtà potete un attimino gestirvi quando partire la registrazione e quando finire la registrazione fino a un massimo di 15 minuti. Cosa succede poi? Premete il tasto, andate nel dettaglio del clip video, potete condividerlo su Facebook, potete dargli un nome, un commento, io già ho fatto la sincronizzazione con Facebook, la prima volta vi chiede di collegare il vostro account Facebook con PlayStation 4, a questo punto potete fare l'anteprima e avere informazioni anche del video dove sta andando e così via, andate avanti, lo gestite soltanto per vedere cosa avete registrato, se volete fare una roba molto molto veloce oppure andate, fate condividi ovviamente, ve lo mette in coda, potete scegliere anche il pubblico di Facebook che ve lo vede, oppure ve lo mette quindi in coda in upload mentre fate altro, oppure fate modifica. In modifica vi apre una sorta di gestione del clip, la gestione del clip è molto molto semplice, vi dice come si può fare, vi da una piccola cosa e vi dice questo è il vostro video, ok? Il vostro video è diviso in intervalli di 10 secondi, potete scegliere se fare intervallo di 1 secondo, 5 secondi, 30 secondi o 60 secondi, ovviamente per 1 secondo date la massima precisione, quindi voi vi scegliete i clip, potete fare ovviamente sempre l'anteprima per capire cosa state facendo e poi premete sul clip che volete, inizia qui, vi porta di qua, termina qui, ritagliate il video e lo buttate online nella versione ritagliata, quindi questo è molto facile, diciamo non è potente ma dall'altro lato dal punto di vista è estremamente veloce per fare un estratto video. Questi sono i clip video, potete ovviamente, lui vi fa tutto, altro se fate clip video probabilmente di applicazioni e poi giochi per i quali avete fatto le clip video, quindi in realtà sulla console vi salva anche tantissimi clip, non c'è un limite da questo punto di vista. Abbiamo poi carica l'istantanea della schermata che sono quelle fatte per Resukan che vi ho fatto vedere prima, posso scegliere se condividere su Facebook e Twitter, adesso facciamo PS4 Share, io sono collegato con Tanzan, posso fare l'anteprima tranquillamente, è un bello video, è un bella foto molto esplicativa ma giusto per farvi vedere come funziona e poi faccio condividi, lui ve l'ha messa, vedete, in alto a sinistra in coda, voi ignorate questo fatto, voi intanto fate i fatti vostri. Un'altra cosa che volevo fare ovviamente, farvi vedere, è che tornate indietro, lui vi fa direttamente entrare nel gioco che state giocando, voi tornate indietro, avete fatto ad esempio Killzone Shadow Fall, andate a vedere, anzi scusate, torno indietro, posso fare opzioni col tasto Option, lo posso ordinare oppure fare anteprima, in questo caso io posso girare tranquillamente tra le foto, dice che sono 7, dopo un certo punto si toglie e quindi mi fa vedere tutti quei skinshots di prova che ho fatto prima, cioè giusto per prova e farvi vedere qualcosina di nuovo. Torniamo indietro, l'ultima opzione interessante è Trasmetti gioco, vado su Trasmetti gioco, scelgo tra i due servizi Twitch e Ustream, Twitch ovviamente non lo tocco perché stiamo già facendo una diretta nostra, però mi sono sincronizzato prima sul canale di multiplayer di Ustream, adesso proviamo a fare questa supercazzola, possiamo scegliere se condividere il collegamento su Twitter e Facebook, e io lo faccio così voi magari mi aggiungete, vedete, so c'è un po' di spam sull'account Twitter e di multiplayer è il mio Tanzen, possiamo scegliere se abilitare o meno il microfono, se visualizzare i commenti sullo schermo, una descrizione, nome del canale, super diretto, commento, controlla la trasmissione, inizia la trasmissione, vediamo se non esplode tutto, adesso vedete, la trasmissione ha cominciata, io ho qui la fascetta laterale che posso disabilitare, riprendo a giocare, adesso dovremo essere sul canale di Ustream, quindi se siete rapidi e veloci, andate sul canale di Ustream, slash channel, slash super diretta, dovreste vedere proprio questa roba qui, quindi direi che sto giocando, ho disabilitato il microfono perché altrimenti si capisce più nulla, e questa è la situazione, vedete ci sono i commenti, le persone che sono collegate in questo momento in basso, e la stessa cosa funziona anche per Twitch, devo dire che funziona molto molto bene, nel senso, vedete, adesso tutto in tempo reale, tanto schiatto, poi si preme il tasto share di nuovo, si possono cambiare le impostazioni, magari aggiungo l'audio in questo momento, oppure faccio la cosa più saggia, interrompo la trasmissione, ritorno sul gioco, e questa è la parte di share. direi che più o meno ci siamo, adesso andiamo invece a farvi vedere le ultime cose, bisogna di passare alle domande e risposte, perché abbiamo le integrazioni con Playstation Vita e Playstation App. Direi di partire dalla Playstation Vita, sperando che vada tutto bene, noi abbiamo creato un'altra telecamera per voi, perché siamo davvero super equipaggiati, se Jacopo ci fa vedere la telecamera di Playstation Vita, eccoci qua, questa è Playstation Vita, io l'ho appena accesa, faccio così, dovete scaricare il software 3.0 della console e vi abilita questa iconcina qui, collegamento PS4, io ovviamente ho già collegato, come dire, associato, abbinato la console alla Playstation Vita, è l'utile farvelo vedere, semplicemente sì, su console, su PS4 esce un codice numerico che voi inserite in PS Vita, poi ovviamente sfruttando il fatto che utilizzo lo stesso account Playstation Network è fatta. quindi io faccio partire collegamento PS4, scelgo riproduzione remota o secondo schermo, quindi second screen, se la console e il gioco specifico supportano questa caratteristica per mini giochi aggiuntivi o quant'altro, oppure clicco su riproduzione remota, lui ricerca nelle vicinanze in corso di un sistema Playstation Vita, l'ha trovato, connessione a Playstation Vita in corso, Antone Fugito si è connesso, c'è scritto sopra la PS4 che sta in lontananza ovviamente, il tempo che fa tutto il check ed eccoci qui, vedete, il lag è praticamente assente sulla stessa rete, cioè comunque è impercettibile, quindi io adesso sono su Playstation Vita, sto gestendo Playstation 4, adesso ad esempio vado in Resogan ed eccoci qui, adesso mo dirò 50 volte, ma giusto per farvi vedere come funziona perfettamente. Una cosa, la riproduzione remota su Playstation Vita è a 30 fotogrammi al secondo, quindi non si notano differenze per i giochi che vanno a 30, Resogan va a 60 fotogrammi al secondo su PS4, quindi il frame rate di mezz'alto, cosa si traduce questo? In un leggero ritardo ai comandi, nel senso, mentre su PS4 è super esponsivo, qui leggermente meno, ma io ho sbloccato quegli ultimi 4 trofei che avete visto, li ho sbloccati proprio su Playstation Vita per vedere quanto è giocabile. Probabilmente Resogan non è giocabilissimo se giocate appunto a livello di difficoltà più elevato, ma è assolutamente giocabilissimo per i livelli di difficoltà intermedia. A questo punto potete tornare indietro oppure premere il tasto Playstation, tornate qui, bellissimo questo metagioco, questo metagioco, in questo momento lo sto facendo, praticamente non c'è ritardo e gestisco la console, posso giocare quant'altro. Allora, Resogan si gioca molto bene, ad esempio Killzone di meno, perché Killzone ha tutto l'utilizzo dei 4 dorsali posteriori, di conseguenza Vita ce n'è a 2 e quindi è abbastanza ingiocabile perché i successivi 2, R2 e L2, vengono demandati al posteriore, quindi bisogna premere con i tasti indietro e giocare, però lanciare granati o fare il combattimento corpo a corpo, col touchpad posteriore non è ideale, quindi in realtà non tutti i giochi sono adeguati con il remoto, però è una figata il fatto ovviamente che funziona perfettamente, se la rete interna è buona potete tranquillamente giocare senza colpo ferire. Quindi questo è il remote play della console, vedete, ho fatto vedere, ho fatto vedere come si gioca sul Resogan, si preme il tasto Playstation, decidete appunto se tornare in partita oppure meno, ovviamente il touchscreen non funziona perché come ben sapete il remote play è una sorta di video in streaming in tempo reale e poi ritornate nel gioco, oppure ripremete il tasto, tornate qui o ancora premete il tasto Playstation e cliccate quest'area qui, vi ritorna indietro sulla console, Antonio Fuscito si è disconnesso, a questo punto vi rigestite la console come vi pare piace, ho anche le notifiche direttamente collegate allo stesso mio account. Quindi questo è il remote play, funziona molto molto bene sulla rete locale, Playstation Vita che deve essere aggiornata al 3.0. Passiamo a Playstation App invece, io adesso ho preso un iPad, l'ho collegato, questo è l'iPad, ho scaricato l'applicazione disponibile proprio da oggi, su Playstation Store purtroppo non è disponibile per iPad, io vi faccio vedere su iPad perché si vede meglio, ma è disponibile per Android smartphone e iOS iPhone, quindi smartphone. Ad ogni modo si può riadattare, semplicemente ho messo a due per, cosa dice qui? Abbiamo varie informazioni, ha trovato una Playstation 4 sul nostro network, questa è la parte principale, io mi sono collegato con il mio account Playstation Network, posso vedere il profilo, quindi Antonio Fucito, Tanzen, gli obiettivi sbloccati, le attività recenti, i linguaggi che parlo, pure il napoletano non ci sta, gli amici che ho a disposizione, posso ad esempio vedere gli amici tra quelli online, oppure quelli che ho incontrato, quelli che mi hanno chiesto l'amicizia, quindi Albateo, quello felice, posso vedere i trofei, posso comprare i trofei, mandagli un messaggio e anche in questo caso la gestione dei messaggi è come su Playstation, lo sta mandando, vediamo se funziona tutto, ok, quindi è una conversazione di tipo SMS, ancora, abbiamo i trofei, i settings ma legati all'applicazione e non alla console, abbiamo i trofei, vedete tutti quelli sbloccati, andiamo a vedere sempre il Reso, che è quello un po' più sbloccato e abbiamo anche in questo caso la percentuale di rarità, il profilo che è molto simile, cosa è stato fatto di nuovo, quindi le novità, what's new, perché l'applicazione ce l'ho in inglese e perché l'iPad ce l'ho in inglese e tutto, ovviamente ho fatto tutto quanto io qui, quindi ovviamente non ci sono i miei amici, perché questo è tutto collegato a Playstation 4, in alto abbiamo le notifiche, ho ricevuto una richiesta d'amico, le inviti, gli alert dei giochi e i messaggi che vi dicevo prima, lo store stranamente ci sta ma non c'è, perché se si clicca su store ti apre il browser, lì vi collegate al browser e acquistate i giochi, però è strano che non sia integrato perlomeno all'interno dell'applicazione, potevano tranquillamente fare una sorta di embed e via, cioè senza problemati di sorta, quindi una cosa fatta a metà funziona, però non è proprio l'ideale della gestione e poi connect to PS4, quindi lui trova la PS4 di Tanzan, ci clicco sopra, mi connetto, sulla console c'è scritto Antonio Fucito si è connesso, vedete io ci sono, posso spegnere, non si sa per quale motivo, c'è una piccola manualistica e poi lo schermo secondario, in questo caso abbiamo appunto lo schermo secondario, qualora ci fossero cose interattive tipo il Playroom, posso scrivere direttamente qui quando ci sono cose a schermo e posso semplicemente gestire la navigazione, se facciamo vedere, ecco qua, faccio così, andiamo a provare un po' se riesco ad andare a scrivere qualcosina e così concludiamo, quindi faccio così, posso scrivere a quel punto, clicco sulla tastiera, faccio ciao, doppio e sono più veloce, possiamo anche più scrivere, done. Diciamo che ci sta un passaggio intermedio che non è proprio ideale perché devo poi chiudere la tastiera, si poteva chiudere magari in automatico in base a quello che c'era su schermo e gli invio anche questa cosa. Quindi, questa è PlayStation App, buona per la consultazione, buona per la gestione negli amici, buona per scrivere sulla console, lo store è rivedibile e magari potrebbe essere un po' più carina, un po' più usabile da vedere, diciamo che le animazioni non ci sono proprio, è abbastanza basiliare, fa il suo onesto lavoro, però potrebbe essere migliorato, come al solito questa applicazione verrà migliorata nel corso del tempo, il software è quello. Io ritorno col pad, ritorniamo sulla dashboard, vedete qui ovviamente c'è la gestione degli utenti multipli, vi ricordo che questa foto è dovuta all'integrazione con Facebook, con il True Name e niente, quindi clicco sul tasto PlayStation e mi riporta subito alla barra di gestione delle applicazioni e dei giochi. Questo è quanto come disamina generale della dashboard di PlayStation 4, io ho scaricato l'aggiornamento 1.51 che sarà quello disponibile, sempre 300 MB, al lancio il 29, la console esce il 29, quindi avrete queste cose un po' più arricchite in termini di notifiche e amicizie. Quindi noi torniamo nella classica super diretta, passiamo quindi al Q&A, quindi domande e risposte, sbizzarritevi, in realtà Antonio suppongo che le abbia raccolte già un bel po', cercherò di rispondere a tutto quello che so a conoscenza della console, della dashboard, quindi andiamo montò, vai. Allora, allora, riemergo dal silenzio siderale nel quale ero precipitato per farti un sacco di domande, quindi rispondi velocissimo e essenziale, se no non ce la facciamo mai nella vita. Allora, una domanda che hanno fatto tantissimi utenti, devo dire, è quella della cross chat, ovvero la possibilità di chiacchierare giocando ad altri giochi anche non che fossero multipli e fra un gioco con l'altra. Funziona, fino a 8 persone. L'hai provata? Funziona la qualità com'è? Sì, ho provato, ho fatto un paio di cose, la qualità normale, nel senso che non mi sembra eccellente, però funziona bene, l'ho provato con le cuffiette, l'ho provato con lo speaker, tenete conto che questo speaker appunto permette di sentire però un po' un casinaro, direi che senza infamia, senza loda, funziona. Va bene. Non ho niente d'altro da dire. Allora, funziona, poi, 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 poi. Gaetano Buttà, si può vedere la carica residua del pad e come si capisce giocatore 1, 2, eccetera. Allora, se lo premo il tasto PlayStation, mi fa un po' di informazioni, facciamo vedere, ho premuto il tasto PlayStation per qualche secondo, vi chiede, anzitutto, se spegnere la console o entrare in modalità stand-by e poi possiamo regolare i dispositivi e vedere il dispositivo. Vedete, in basso c'è l'indicazione di quanto è carico il pad, quindi un po' meno simile al PlayStation 3. Allora, poi, chiedono per la retrocompatibilità come funziona. Non c'è, assolutamente non c'è ad oggi. Il prossimo anno verrà implementata su giochi non so quali, PS3 e PSN, mediante Gaikai in America, in Europa, aspettatevi per lo meno dopo l'estate. Sony sta facendo un'opera di portare alcuni titoli, tipo Flower, anche su PS4, gratis, o altri invece con un piccolo upgrade, tipo Call of Duty. Allora, poi ci chiedono se avrà mai la possibilità di utilizzare hard disk esterni PlayStation 4. Ne verrei l'audio, però. Allora, per adesso no, arriverà una patch, ma hard disk esterni per rimagazzinare i dati, nel senso non credo proprio per estendere le applicazioni, perché è una questione di velocità, di coerenza nel sistema, nel senso che magari staccati hard disk non c'è più dati sensibili, direi soltanto per i dati. Poi ovviamente la super diretta sarà online il prima possibile. Assolutamente, scaricabile. Poi Roberto Zanotti chiede se il formato, AVI è supportato dalla console e quali i formati video? Per adesso nessuno. Adesso nessuno, perché abbiamo, come vi dicevo, video unlimited e music unlimited, quindi tutto quanto sotto forma di servizi, non di formati, però pare che arriverà una patch. Allora, ma Lorenzo Mariotto, quali sono gli utilizzi attuali di PlayStation Camera, nella dashboard e in Killzone per esempio? Nella dashboard ci sono alcuni comandi vocali, abbiamo visto la possibilità di essere riconosciuto con la camera, in Killzone non credo, non lo so, non credo, direi di no. Va bene, poi chiedevano tanti sempre dei comandi vocali se li volevamo provare perché è uscita la notizia che sono funzionanti anche senza la camera. Non li abbiamo testati, dovrebbero funzionare, non sappiamo se già in italiano semplicemente con le cuffiette, nel senso che se le vostre cuffiette hanno il microfono, dovrebbero funzionare, però non abbiamo avuto nel tempo di controllare. Nel frattempo andiamo avanti. Davide Fabozzi ha trovato sullo store diversi bundle, cioè in giro per i negozi, PlayStation, Vita e PS4. Secondo te un ufficiale verrà mai annunciato? Pare che arriverà entro fine anno, non sappiamo se anche in Italia o sarà una roba limitata allo UK. Non sappiamo neanche il prezzo, se magari il nostro amico ci dice quanto c'è questo bundle, quanto costa. Mi sa che ce l'abbiamo pure noi. Poi, allora, una cosa che chiedeva GZRoxas, ma non soltanto lui. Come condivideremo i nostri gameplay su YouTube nei prossimi mesi? Perché abbiamo visto la condivisione su... Adesso il supporto è Twitch e Ustream. Potete salvare lo stream tramite l'applicazione di Ustream e Twitch e condividelo, quindi riprenderlo. Ad oggi non è supportato il live su YouTube né la registrazione. Ma è possibile esportare i file? Assolutamente no. Ad oggi è tutto quanto legato a Facebook per quanto riguarda il file senza... con modificato e Twitch e Ustream per quanto riguarda il live. Qualcosa arriverà in futuro? Qualcosa no. Non lo sappiamo. YouTube pare confermato, nel senso l'hanno già detto. Non sappiamo quando, perché e per come. Va bene. Poi Alberto Tamburrino chiede le personalizzazioni del profilo PSN e poi chiede se ci sarà PlayStation Home su PlayStation 4. Allora, direi che PlayStation Home non arriverà mai nella vita perché è stato un servizio che sulla carta poteva essere simpatico ma è stato abbastanza fallimentare. Personalizzazione, avete visto, io tramite l'integrazione con Facebook, però integrazione intesa semplicemente come cattura delle cose, dei dati, ho preso la mia foto e il mio nome reale che posso condividere alla mia scelta in base alla privacy con tutti quanti o con nessuno. C'è l'avatar, c'è il nome e basta, il nickname e nient'altro per adesso. Non ci sono personalizzazioni della dashboard, per adesso è questa la dashboard. Infatti chiedevano anche se si poteva cambiare l'immagine dietro o non si può. Assolutamente, questa è la dashboard iniziale, ripeto, probabilmente alcune cose arriveranno, il colore, tutto work in progress, però per adesso quello che c'è fortunatamente funziona bene, avete visto, abbiamo fatto una diretta in tempo reale, magari cambierà anche. Migratto, perché è stato incredibile. Magari cambierà anche come l'altra col tempo. Sì, sì, magari lo sfondo oppure semplicemente il colore, per adesso è questa. Allora, poi chiede Gabriele Kastlunger, si può usare il touchpad nella dashboard, per scorrere menu, cose del genere. No, nel browser però. Nel browser si può fare, quindi nel browser su internet. La navigazione no, per adesso no, probabilmente è verabilitata, perché suppongo che sia proprio una cretinata, se funziona con PlayStation Vita. Perché no. Allora, Chip fa una domanda molto curiosa, chiede se la nostra console è made in China. È made in Japan, abbiamo fatto un check, perché la gente ha paura che quella made in China possa avere alcuni problemi, come è successo nei Stati Uniti. La nostra è made in Japan, qualcuna è made in China. Poi a Nebris hai risposto confermando che non esiste ancora l'applicazione per iPad, quindi uscirà. No, dovete fare il due per classico. Allora, poi Simone Marchetti, è possibile far andare due giochi in multitasking? No. Due giochi in multitasking? Assolutamente no. È impossibile. Come fai? Allora, poi chiedeva a Angelo, Simone, se la cross chat è disponibile per tutti gli utenti o solo perché è il plus? Per tutti. Per tutti gli utenti. Tutti gli utenti, sì. Hanno spostato un po' di cose fuori al plus e altre come multiplayer, invece, dentro al plus. Chiede, infatti, Shou, dei temi. Questa è una cosa molto a sentire. Allora, Francesco Torino, per giocare è necessario avere il gioco inserito? Una volta installato, te ne freghi? Allora, quelli pacchettizzati dischi hanno bisogno del gioco. Però devo dire, ad esempio, che l'installazione è estremamente veloce. Ho installato Call of Duty Ghosts in un minuto scarso, 32 GB. Skyrim95 chiede se per i trofei su PlayStation 4 esiste una cosa, tipo quella di Xbox One, delle sfide? No. Delle sfide no. Cioè, nel senso ci sono questi inviti, non sappiamo come vengono sviluppati, però nei giochi di lancio non c'è nessuna di queste cose. Eh, chiedono tanto dei controlli vocali, va bene. Poi, Andrea Mollica, si potranno chiudere le applicazioni oppure fa tutto da solo PlayStation 4? Fa tutto da solo, ma volendo premete il tasto Option, facciamo vedere Iaco, abbiamo Resogan in background, premete il tasto Option, potete eliminare ovviamente l'applicazione perché questo qui l'ho scaricato, ma in realtà in tutto si installano, oppure chiudere l'applicazione e la chiudiamo. Chiusa. Però non fa nulla perché c'è la batteria che si scarica. Infatti chiude, va bene, ok. Allora, Andrea De Silvestro chiede se sullo shopping sono già presente delle demo sullo store, se ci sono delle demo di giochi da scaricare. C'è Playroom? Credo di no, cioè non mi sembra di averlo visto, anche perché sì, no, assolutamente no. Ci sono contenuti già aggiuntivi, tanti, quanti ne volete di Assassin's Creed o di FIFA, però non mi pare di aver visto demo, però purtroppo non posso confermarlo, andate su Sony Network Entertainment, ve lo vedete dire attento voi, c'è tutto. Mattia Chicchelero chiede se si possono vedere gli amici che sono ancora su PS3, assolutamente sì. Sì, vi dice anche Vita, anche i trofei vengono catalogati per PS3, PS4 e PS Vita, assolutamente. Comandi vocali, abbiamo già detto che non si può, si può cambiare in maniera o no. Sono impazziti per i comandi vocali, sembrava la diretta di settimana scorsa. Non abbiamo PlayStation Camera ragazzi, ancora non abbiamo disponibile, quando arriverà magari aggiorneremo. Skyrim 95, qual è il costo di PlayStation Camera, più o meno lo sai? Dovrebbe essere o 49 o 59, non ricordo assolutamente. Gabriele Castlung, che probabilmente le va, chiede se il PlayStation 4 supporta le cuffie wireless, quindi senza cavo, di PlayStation. Non si sa. Bella domanda, USB sicuramente non tutti i modelli, ma c'è il supporto proprio nelle opzioni USB. Dispositivi wireless, possiamo andare a vedere qualcosina, se ci sta Bluetooth ovviamente, onestamente adesso non mi ricordo. Vabbè dai. Nel frattempo fai altre domande, magari io vedo. Gaetano Buttà, si può vedere tutto quello che c'è nell'hard disk e cancellare tutto quello che si vuole? C'è un memory manager? Abbiamo dispositivi Bluetooth, che è ovviamente il DualShock 4, dispositivi audio, bisognerebbe fare delle prove per quanto riguarda le cose. Però se più o meno sarà come i PS3, qualcosa sarà meno compatibile, perché è nuovo, man mano con gli aggiornamenti del software verranno aggiunte cose. L'altra domanda che dicevi? Se c'è un memory manager, per vedere tutta la roba installata e che si può disinstallare. Allora... O se come su Xbox devi andare su ogni singolo elemento. L'altra c'era in PS3? Sì, sì, come no. Dobbiamo vedere un attimino, nel frattempo vedo anche questo, mi pare di averlo scorto, però magari invece c'è. Allora, ma invece dice... Aspetta, gestione dei dati salvati dall'applicazione, gestione, ecco qua. Memoria. Ecco qua, applicazioni, cattura, cattura non si può sentire. Ah, vedi, considera i giochi applicazioni. E poi andate qui, fate opzioni e cancellate, quindi assolutamente c'è la gestione, quindi le catture sarebbero gli screenshots o anche i video, suppongo. Immagino di sì. E dati salvati dall'applicazione sono... Andiamo a vedere... Chiudendo l'applicazione... Ah, ok, dati online, quello che vi faccio vedere prima, dati salvati nella memoria di archiviazione online e dati di archiviazione USB. Quindi sì, la gestione identica, anche più facile, forse più chiara rispetto a PS3. Allora, Xander, Gamer90, fa una domanda al contrario rispetto a una a cui già ha risposto. Stando su PS3, posso vedere gli amici che giocano a PS4? Direi di no, però non è detto. Dovresti fare delle prove, nel senso, prova a vedere... Cosa? Se vede... Se puoi, vedi se sono su PS4. Però mi sa di no, perché dei ragazzi scrivevano che ti vedevano offline anche se erano online, quindi da verificare. Poi Vincenzo chiede... No, quello perché c'è il limite di 100, quindi infatti fa una lista, non so come, però si può vedere se sto online. Allora, ciao Antonio, quando un amico va online, da PSN a noi compare la foto di Facebook o quella del profilo? Su PS3 no. Su PS4? Su PS4 sì, se ho dato l'autorizzazione. Su PS4 sì. Perché io apparentemente c'è proprio la cosa, invia richiesta nome, quindi voi appare il mio nickname, se mi fate l'inviare richiesta nome io accetto sì. GameTology, a che risoluzione saranno registrati i video che condividi su PS4? Allora, io ho upato un video di 8 minuti di Resocan su Facebook ed era di 442 MB, quindi ho fatto un calco, sono 8 MB, direi che è perlomeno 720p, però purtroppo non si può vedere attualmente quanto è, suppongo che sia 720p. Allora, Xander chiede sì e ti rispondo c'è ancora il blocco, il blocco HDCP e chiede come facciamo noi ad acquisire i video. Non posso far dire. Eh, non posso far dire ancora ragazzi, c'è me spesso un pomeriggio intero. Ci vuole un po' di know-how. Allora, niente, la differenza fra nickname già l'abbiamo fatto, Killzone ha lo split screen. No, però tenete conto che fra un po' staccheremo per 5-10 minuti, ci faremo un drink e poi faremo la super diretta dedicata a Killzone Shadow Fall, quindi giocato in tempo reale in italiano, quindi a differenza del B-roll che avevamo mostrato un paio di settimane or solo. Senti, Simone Tedeschi, i caricamenti in game e i consumi? Allora, la console è molto rapida nell'accendersi, stiamo nell'ordine, anche da spenta, completamente spenta, stiamo nell'ordine di 15-20 secondi, se la fate invece dallo stand-by 10-5 secondi. Consumi, non lo posso sapere a memoria, posso dirvi che c'è Aps Technica che è un vestito bellissimo che ve lo dice, rumorosità e silenziosità, più silenziosa di PS3 Slim, si sente assolutamente quando il disco gira, fortunatamente una volta installato, ve lo dimenticate, si sente anche la ventola, però siamo un po' più bassi di PS3 Slim, io ho la Slim, soggettivi, tutta roba soggettiva. Allora, poi invece Andrea Sarchieli fa una domanda simpatica perché dice, si può usare PS Vita, pensieri, retesti? Come fai con l'iPad? Sì, sì, c'è Remote Play o il Second Screen, sì, sì, uguale all'applicazione. Allora, poi ovviamente Vincenzo può usare l'account di PS3 su PS4 senza problemi, poi, 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 si possono usare contemporaneamente lo stesso account su PS3 e PS4? Direi di sì, si può fare su PS Vita e PS4, direi di sì. Allora, no, il crossplay fra PS3 e PS4 direi di no? No, sarà tra PS4 e PS Vita. Stefano Carozzi, ma non è il solo, chiede se si può fare il Remote Play quando si è in giro tramite 3G, cioè il traffico dati. Allora, se non sbaglio il Day One non c'è, però sarà possibile, ovviamente sognatevelo, nel senso che cacchiotta fa il 3G è impossibile che vi vada con un lag decente, ragazzi, pure se siete stati in America è impossibile, quindi al massimo potete fare tra due Wi-Fi a distanza, ma in America o comunque con due buone Wi-Fi. Allora... Io sto giocando il giusto contrasto, giusto per mettere qualcosa in sottofondo. Come funziona Twitch? È possibile guardare tutti i canali streaming sul servizio? Sì, l'hai fatto vedere prima. Sì, sì, l'hai fatto vedere prima. Ah, poi... Allora, per le domande sul plus, ti ne vai a vedere sul sito internet. Allora, l'headset, le cuffie ad ambaradello, le cuffie incluse nella confezione, sono ergonomiche, danno fastidio, come sono? È una cuffia mono, nel senso con un padiglione, serve per la chat vocale, soprattutto, non vi aspettate di ascoltare la musica lì dentro. Qualità media, qualità costruttiva pure medio-bassa. Questo non l'ho capito, quindi non te la faccio. Allora, Angelo Simone, per avere degli streaming di gioco fluidi, che connessione ci vuole almeno? Da quello che ho capito, la connessione è abbastanza adattiva, perché ho visto degli stream, anche della stessa Sony, su Trine 2, erano di qualità abbastanza bassa. Abbiamo fatto una prova sugli stream, prima era molto più alta la qualità. Noi abbiamo qui 60 megabit, quindi non è un metro di paragone, nel senso del top del top. Probabilmente sarà adattivo in base a quanto lasciate buona la connessione. Poi chiedevano, e questo mi sa che però la risposta è no, se il remote play e il second screen o comunque l'accesso da PS Vita funziona a console spenta. No, non funziona. A console spenta al 100% no. Standby, direi di no. Però non l'ho provato in prima persona, però direi di no come sono le opzioni. Probabilmente potrà arrivare, però comincia poi a diventare una roba. In realtà deve stare accesa, una console, sennò devi fare da server, no? Se stai in standby è miracolo, anche perché devi partire il gioco e poi hai PS4 che gestisce il gioco, non PS Vita. Quindi deve stare al massimo della potenza. No, mi sono autorisposto che non ce la potrebbe mai fare in standby. Ma come fa? Andrea Zuccaro dice posso andare sui siti col browser a vedere i film in streaming? No, perché non c'è flash. No, nel senso proprio ci sta per esempio YouTube. Ti mettono l'HDCP e ti fanno vedere i film in streaming? YouTube ad esempio funziona. A YouTube sì. Perché c'è l'HTML5. Penso che si riferissi ad altri tipi di siti di film. No, in realtà U-Porn funziona alla grande, perché U-Porn supporta HTML5, U-Porn si vede su iPad, si vede anche su PS4. Quelli che intende Andrea Zuccaro secondo me non si vedono. Ma con U-Porn? No, credo che non si riferissi a quelli, pensaci un po'. Ok, Matteo Scarpitta. Sì, sì, un tempo. È possibile giocare a un gioco durante l'installazione, mentre non sta ancora installando? Sì, a un certo punto fa giocare, se non sbaglio, circa il 45-50%, però ripeto, non so se è un fatto specifico di quello di ultima, ci ha messo zero a installarlo, manco il tempo che vi girate e già ve l'ha installato. Leonardo Marchiori chiede se music e video unlimited sono inclusi nel Plus. Assolutamente no. Allora. Solo a parte. Bisogna pagare 9,99€ per quanto riguarda music, per i video in realtà si comprano. Allora, i caricamenti come sono rispetto all'Hallgen? Dipende. Dipende. Però adesso sono migliorati, devo essere sincero. Perché anche perché ormai tutti i giochi si stanno su harddisk, l'harddisk è più veloce di quello medio, perché adesso abbiamo un 7200 rotazioni SATA 2, prima era un 5400, intanto sono morto, a che sto parlando, prima era un 5400 SATA 1, di conseguenza sono migliorati, diventerà poi tanto nei giochi ovviamente. Però mi sembra una prestazione nettamente migliore, anche l'interfaccia è nettamente più fruita di quella precedente. PS Vita può essere usata tipo il gamepad di Wii U nel senso come joypad vero e proprio della console? Cioè tu puoi giocare a Killzone usando PS Vita? Sì. Non in streaming? Deve supportarlo il gioco. Però potenzialmente è possibile fare. Adesso faccio delle cazzate mentre parlo e rispondo. È possibile condividere i video soltanto con gli amici di PS4, senza andare sui social quindi? Direi di no. Ok. Anche perché non c'è uno storage online specifico. Dei video, ok. Questa cosa dello sfondo è popolarissima proprio, ci deve essere gente che è affizionata ai suoi sfondi, chiedono tutto. Allora, vabbè, addirittura, questa fa ridere. Dali Segayer, che ancora non è uscita la PS4, chiede già se uscirà una versione slim. Dice come ti è sembrato quanto a riscaldamento. Allora, tenete conto che ha delle feritoie soltanto laterali. E' diventato scrivendo il sito nostro con la PlayStation App. Allora, Andrea Meris ha risposto, dice che la demo di FIFA 14 è disponibile. Ok. Il prezzo di PS camera è 59,90 euro. Ok, mi ricordavo una seconda battuta. Allora, Jacopo Minardi dice che c'è anche la demo di NBA Live. Poi Dei Cuffie mi sa che supporta i modelli Pulse, se mi confermi che esistono. Sì, vabbè, adesso lo specifico supporto è un po' un casino. Ed ecco, moltiplare dei puntiti nella sua bellezza all'interno di PS4. Questo è un meta. Potremmo provare a vedere la diretta all'interno del... Non riusciamo più. Vedete, abbiamo pubblicato, tra parentesi, se ne approfitto per fare pubblicità, abbiamo pubblicato le video recensioni di Killzone Shadow Fall, di Neck e di Resogan. Andrea Vena ci fa ridere. Dice, si può spogliare la fidanzata e mostrarla in streaming su Twitch? Sì, poi fatevi banare. Se lui ci passa il suo account, io lo collego e faccio un bel pornazzo. Dice, puoi mostrarcela ora con Barone e a Jay? No, non può mostrarvela. Allora, poi... Allora, i volanti come siamo messi? Tipo il driving force della Logitech? No, non ho idea, ragazzi. Non abbiamo giochi di guida, quindi figurarsi se sappiamo... Vedete, in questo caso, oltre.it, che è un sito aggiornato, ha supporto HTML5 anche per i video, quindi tenete conto che questo non è assolutamente flash. Matteo Ferraro dice, sono online su PS3 e ho come amico Tanzin. Come mai non risulta online? Mi sa che c'è qualche problema lì ancora. Vabbè, avevo fatto il video, purtroppo... C'è assolutamente un casino enorme. Ecco qui, allora... Cos'è successo? È partito il video sottofondo, però cercheremo di bloccarlo. Eccolo qua. Ok, l'ho bloccato, vai. Niente. Fantazio, però funzionano anche i video di multiplayer multiti su PS4, perché si lamentavano che non vedevano i nostri video su PS3. Allora, io penso che la risposta sia no, ovvero che succede se colleghi col cavo SB1 pad PS3 a PS4? Non l'ho provato. Ma non può funzionare? No, forse no, SB funziona e Bluetooth no, perché è cambiata la tecnologia. Però allora, già ci avevamo fatto questa domanda alla vecchia diretta e funziona col cavo. E puoi giocarci, quindi. Ovviamente non avete il touchpad, quindi in Killzone non sarà compatibile al 100%. Vabbè, chiaro. Call of Duty Ghost è compatibile con il remote play? Sì, sì, funziona tutto, tutto funziona in remote play. Il problema è se volete fare invece il second screen, quindi controller. Il piccione, com'è la vibrazione del DualShock 4? L'ho provato, ma mi sembra molto simile, nel senso che non ho giocato questi grandi titoli per capire la differenza. Sony dice che ha un motorino migliorato, i motorini interni al pad. Ovviamente tutto è legato anche all'ergonomia, più o meno a quella. Luca Roveta, in futuro le superdirette saranno visibili da PS4 su Twitch? Assolutamente sì, però non dipende da noi, ma dipende da Twitch. Però Twitch ci ha risposto, perché abbiamo contattati, perché siamo in contatto anche con loro, siamo partner premium. Ci ha detto che stanno lavorando per fare una versione HTML5 del player, quindi noi embedderemo anche il player HTML5 nella pagina della diretta o voi andrete direttamente dalla console e quindi vi vedrete il nostro streaming. Trappertesi ragazzi, seguiteci su Twitter, fate like, fate il cuoricino su Twitch, così avrete sempre gli aggiornamenti delle nostre superdirette. Fateci sto favore, dai, questo super servizio che vi stiamo offrendo, dei miei miei particolari. Andrea Zuccaro dice, almeno mi consolo con YouPorn. YouPorn è perfetto, è la grande roba. Allora, Cipo, sì, abbiamo già detto e ti abbiamo risposto proprio a te, la presa HDMI è criptata come quella di PS3. Anche in questo caso pare che arriverà una patch che permette di stabilitare l'HDCP sui giochi, ma non sui Blu-ray, perché è una questione legata di realtà di Blu-ray che è stata implementata ai tempi di PS3. Pare che addirittura Sony riuscirà a sviluppare il software che suddivide le due cose, quindi tutti potete fare la cattura video. Però adesso secondo me vogliono puntare, ne parlavo anche con Antonio, molto su Twitch e Ustream. Cioè anche una paraculaggia, un po' come Music Unlimited, è un po' una voglia di indirizzare l'utente verso alcuni servizi. Sì, questo lo sapevamo. Dice, ciao ragazzi, comunque vi posso confermare, ci dice Giacomo Cicala, che è un bellissimo cognome, che se PS4 è in stand-by, vita è in grado di accenderla in remoto. Ah, di accenderla, certo. Quella è un'altra cosa, giocare è un'altra storia. È ovvio, accendermelo male, sì, è ovvio. Poi ci chiede Alex Colucci. Quindi lui dice che così almeno è figo, che magari non devi prima andare sulla TV e dire, mamma, un attimo solo. No, tu fai tutto quanto in remoto. Certo, quello ci mancherebbe. Allora, questa è la domanda, ritorno, ricorrente, ma appunto, della condivisione dei video. Intanto spammo poi il mio profilo, mi aggiungeranno 2.000 persone. Su social. Avete provato Move Stefano Carozzi? No. No. Allora. Poi, se volete vedere i nostri risultati, io ho spammato sul mio account Twitter, su quello di Multiplayer, quindi Multiplayer It, Tansen, le foto che ho condiviso, oppure la diretta per vedere se funziona tutto, quindi per vedere tutto il pacchettino. Il piccione, il poccione, fa la domanda curiosa della giornata. Si può spegnere la luce del LED del pad? Ma perché dovresti volerla spegnere? Allora, non si può spegnere, no, perché probabilmente c'è chi gioca con la testa dentro lo schermo e nei neri potrebbe riflettere la luce. Però tenete conto che è molto opaca, non è una luce squillante. La distanza che stiamo giocando adesso non si è mai vista, però c'è niente chi è attento a tutti questi dettagli, noi ve lo diciamo, non si può spegnere. Poi magari, se sarà una grande feature richiesta, allora Sony implementerà l'opzione, non lo so. Perché credo che la usi molto PlayStation Camera. Si, si, poi la utilizza PlayStation Camera per i giocatori. In realtà questo qui potrebbe essere utilizzato come un move, perché semplicemente move è una luce che si muove. Quindi in realtà potete giocare, al posto di avere il move, potete giocare così. Allora, Luca Velotti, per quanto riguarda i film DVD e i Blu-ray? Cosa? Come funzionano? Hai provato ancora, no? No, nel senso funzionano, c'hanno tutte le impostazioni della lingua, i sottotitoli, del avanti e indietro, veloce, i capitoli, funziona perfetto. Ho visto un Blu-ray, va più veloce il Blu-ray, ma serve per l'installazione, non certo per la visualizzazione. Ragazzi, Federico Munari ci apre il cuore e arriva la domanda del giorno dell'utente e chiede se filmo i gameplay con la videocamera, poi li posso mettere su YouTube. Eh sì, certo. Li puoi anche bruciare. Li puoi anche farci quello che vuoi. Non ti pare, perché sei fatti tu. Allora, ultima manciata di domande, che siamo in chiusura, prima di prendere un minimo di pausa e fare Killzone Shadow Follow. Quindi vi invito a fare domande nuove, perché in realtà con Walkthrough abbiamo cercato di rispondere più o meno a tutto, quindi direi che più le cose che mi hai fatto tu. Quindi ultima manciata di domande, sperando che veramente avete apprezzato questa analisi dettagliata della console. Allora, guarda, Daniele Gialli, allora innanzitutto perché chiedevano sempre quanti erano questi famosi giorni di PlayStation Plus gratuiti. 15 giorni. 15 giorni. Praticamente non c'è un voucher all'interno della confezione, probabilmente basta iscriversi con PS4 o collegarsi e vi dai giorni gratis. No, perché lui dice, si possono attivare quando si vuole? No, evidentemente appena ti logghi. Appena ti logghi, però magari se non vi loggate, nel senso che se non aderite ce l'avete tra le opzioni, però magari dura un mese. Queste sono nel frattempo anche le informazioni personali, nome, foto del profilo, lingue conosciute. Vediamo se ci sta il napoletano. Vabbè, nel frattempo ritorna con noi, Jacopo. Durata del DualShock 4 e tempi di ricarica? Non lo sai ancora o sì? Dura dalle 7 alle 9 ore il DualShock 4, tempo di ricarica massimo 2 ore. No, ci sono lingue preimpostate, non posso mettere Napoletano, ecco perché non lo avevo messo, se no, già l'avrei fatto. Gaetano Butta, quant'è dipendente PlayStation 4 da internet? Per uno che non vuole essere connesso si perde tanto? Che vi dico? No, se vuoi giocare, no, ai titoli single player, No, però dell'esperienza. Altrimenti si le spegne, vedete anche questa qui, comunque se avete gli amici, vedete tutti quelli che fanno, vedete ad esempio, c'è il Playroom, Resoghan, vi dice che ho giocato a Contrast, vi fa vedere le informazioni, vi fa vedere lo script, vi fa avviare il gioco, visualizzo su Twitter, vediamo che succede, vi apre il browser, vedete Twitter, ah questo è carino, quindi, ah carino questo, quindi ti apre il mio status, c'è anche gente che ha risposto, vedo, quindi è molto carino a questo punto di vista. Nebilis, ho letto che lo speaker del pad mette suoni legati ai giochi, confermate? Assolutamente, in Resoghan, quella voce che vi ha vista dei pericoli esce anche dallo speaker, in Killzone Shadow Fall, le registrazioni audio escono direttamente dallo speaker del pad, si sente abbastanza bene, perché non avete rumore di fondo extra. Allora, i Blu-ray 3D mi pare che anche qua non ci sono, giusto, Andy One? No, però c'è il supporto hardware, quindi arriverà una patch software. Allora, 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 i giochi in 3D invece come va? Non ci sono giochi in 3D a lancia. Però non ha problemi a farli, se mi faceva la PlayStation. supporta hardware, ma io spero che, cioè a me il 3D in realtà non fa impazzire, quindi non mi può fregare di meno. Su 3DS mi piace, ma qui veramente, a parte non c'è manco uno, tu c'è il TV 3D. Ma che? Eh, qui. Allora. Informazioni contenuti, vediamo che fa, così facciamo vedere, che fa la panoramica, ok, quindi vi dà il dettaglio del gioco. Bedrock, adesso non ci sta nulla. Vedi che sul finire è sempre il meglio, Bedrock, ci fate vedere le varie impostazioni dei menu, non abbiamo fatto altro fino a ora, guarda. allora, per chi è arrivato più tardi, abbiamo fatto un walkthrough di più di mezz'ora, dove io ho parlato di tutte le informazioni importanti della console, qualcosa mi sarò dimenticato perché sono ovviamente normale, quindi questo video, nel frattempo abbiamo distrutto la telecamera, questo video andrà online entro qualche ora, quindi sarà scaricabile per tutti. Diffonete il verbo, per favore, condivideteci ovunque perché è importante far conoscere la qualità di Multiplayer.it. L'ultima domanda, Antonio, vediamo anche quella stupida. Quanto ci ha messo a installare Killzone e quanto pesa? Chiede Davide Galax. Se non sbaglio, 49 gigabyte, due minuti scarsi, è veramente molto molto veloce la console installare, non me l'aspettavo, evidentemente il lettore Blu-ray è iper veloce, o comunque i dati su Blu-ray vengono messi senza doverli installare, sai, buttati lì un passaggio di dati che è molto più veloce. Niente, batteri e resto, poi... Abbiamo risposto prima a tutto. Grazie Toto, noi ci prendiamo, veramente una pausa, velocissima, questo è il Walkthrough, video ufficiale di Multiplayer.it legato alla dashboard, buon proseguimento con Multiplayer.it. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.